Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 4 dicembre 2019, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Grande attenzione chiaramente alla notizia arrivata ieri nel tardo pomeriggio con nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano l'archiviazione della posizione degli ex presidenti della regione e degli ex assessori. Tant'è che se andiamo subito sulla prima pagina del centro edizione di Pescara troviamo proprio questa notizia d'apertura che sarà la medesima anche nelle altre edizioni del centro così come anche nella edizione del messaggero Abruzzo. Allora Rigopiano archiviati tutti i politici, tragedia dell'hotel, ex governatori e assessori non saranno nel processo. Qui troviamo una foto del comitato composto dai parenti delle vittime in una loro manifestazione all'esterno del tribunale di Pescara. Sicuramente una notizia che colpisce l'opinione pubblica e colpisce molto anche il comitato dei parenti delle vittime. Andiamo a vedere sotto la testata. Sono 8 mila in Europa. Unicredit taglierà in Italia 500 figliali, 6 mila esuberi. E poi Abruzzo dal governo 1,6 milioni. Danni dalle mareggiate arrivano i primi aiuti. Scendiamo con i richiami di Cronaca Pescara in centro. Sotto sequestro sala scommesse non autorizzata. Una sala di via Firenze è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza perché priva dell'autorizzazione amministrativa dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, oltre che della licenza di pubblica sicurezza. Poi ancora ASL parcheggi e nuovi scivoli per disabili. Un ospedale senza barriere architettoniche. Il progetto di ASL, l'associazione Carruzzine Determinate, presentato ieri all'ospedale civile. Previsti nuovi scivoli e parcheggi riservati. E poi un sondaggio a Montesilvano, Villa Verrocchio, i residenti. Serve più sicurezza. E poi ancora il giudice Straccia non è stato ucciso. Pescara archiviata l'inchiesta. Inattendibile il pentito che parlò di scambio di persona. Il buongiorno Abruzzo, poi il mistero della banalità del bene. Tutto questo appunto in taglio basso. Si fa riferimento a un episodio appunto di bontà di un anziano della provincia di Arezzo che tutti i giorni accompagna un bambino macedone a scuola. Andiamo avanti con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Chiaramente il titolo di apertura è il medesimo. Andiamo a vedere i richiami di cronaca. A Chieti per Natale la Caritas aiuta 2000 famiglie, 2000 credit card da distribuire per Natale alle famiglie bisognose. Sono da 20 euro ognuna e potranno essere spese solo nei discount alimentari Eurospin. Quest'anno arrivano anche i biglietti gratis per il cinema. Sempre a Chieti. Ancora rifiuti sulle strade ed è protesta. A Chieti non si ferma la protesta per i rifiuti lasciati sulle strade nonostante il nuovo appalto in città. Sono sempre più frequenti scene di degrado sia sul colle che allo scalo. A Lanciano albergo iceberg città divisa sull'opera d'arte. E poi ancora l'avvocato il marito si è difeso. Torino di Sangro, il legale di Giannichi punta a smontare l'accusa di omicidio volontario. E siamo sull'edizione terramana del centro. Anche qui il fatto di cronaca avvenuto a Tossicia giorni fa. Donna rapita si indaga tra i conoscenti. Le indagini sulla vicenda della 38enne trovata legata a mani e piedi dei carabinieri forestali lunedì mattina in una zona isolata in Contrada Scaccia, in territorio di Colledara. Si concentrano sulle persone vicine alla vittima. Poi ancora Notaresco e Roseto. Truffa del sisma soldi sequestrati a due persone. Un ex dirigente dell'ASD Notaresco Calcio e il titolare di un albergo di Roseto sono indagati per truffa nell'ambito di un'inchiesta sui contributi post-sisma. ha disposto il sequestro di 150 mila euro. Poi ancora a Giulianova lavori antifrana veloci per non perdere i fondi. Muore schiacciato dal suo camion. Colonnella tragico incidente in un'azienda. La vittima è un marchigiano di 53 anni. Edizione aquilana del centro. Andiamo subito ai richiami. Molina Aterno, tanti in chiesa per l'addio all'operaio ucciso. È stata intensa l'omeria di padre Alfonso durante la celebrazione dei funerali di Paolo D'Amico, operaio dell'ASM ucciso nella sua casa di Barisciano, nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Molina Aterno. Ad Avezzano rogo alla Burgo. Disastro scongiurato. Disastro appunto evitato alla cartiera Burgo di Avezzano. L'incendio divampato ieri mattina infatti avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento delle squadre interne. E poi ancora a Sulmona, carabiniere morto. Indagini in alta quota. Bancomat salta in aria con l'esplosivo a sassa. Colpo a vuoto all'ufficio postale. Arrivano i carabinieri malviventi in fuga. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Ovviamente spazio in apertura all'inchiesta Rigopiano. Scaggionati gli ex governatori. Rigopiano, il GIP non fu segnalato dai tecnici l'obbligo di predisporre le carte del Valanghe. Cadono le accuse contro Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Giorgio Pernichiodi. Altri 19 assolti. Le reazioni Papa Feniello a pagare sono soltanto io. Andiamo sotto la testata. Il fenomeno supermemoria. Andrea Muzzi, campione del mondo in Cina. A Giulianova il sindaco Costantini sconvolge la città. La mia lotta contro un tumore. Poi in serie B Pescara. Ecco il derby di lupo. Borrelli piace alla Fiorentina. L'ex direttore sportivo è attualmente l'uomo di fiducia di Tacopina al Venezia. Il millennial potrebbe diventare giocatore di mercato nel prossimo gennaio. Andiamo a vedere di spalla risarcimento per le tempeste. Ma arrivano solo 1,6 milioni. Lo stato d'emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri per le coste distrutte. In taglio meglio. Intanto la fotonotizia sequestrata. Sala scommesse clandestina. Febbre del gioco. Sigilli nel cuore del capoluogo adriatico. E poi stuprava e filmava una ragazzina. Finisce in manette. Abusi fin da quando la vittima era minorenne. Alla fine racconta tutto. L'uomo ai domiciliari. In taglio basso. Teramo denunciò lo stalker prima degli abusi. Andiamo ora con la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura dedicata alla cronaca schiacciato dalla motrice del tir. Incidente sul lavoro in un'azienda di colonnella operaio 53enne in condizioni disperate. Sotto la testata l'inchiesta sul crollo. Rigopiano disposta l'archiviazione per 22. E poi scendiamo in taglio medio. Vediamo la fotonotizia. La truffa della squadra di pallone terremotata. Furbetti del CAS. Indagati il presidente e un albergatore che si erano messi d'accordo. Di spalla. Teramo. Videomapping. Idee di futuro sulla facciata della cattedrale. Sempre a Teramo. Il capoluogo rilancia sulla cultura. E poi ancora. Prati di Tivo. La stagione slitta verso Natale. Per ora manca la neve ma c'è ancora qualche dettaglio da sistemare. Tre richiami in taglio basso. Val Vibrata. Colonnelli. La ciclabile del Vibrata è in ritardo perché gestita male. A Giulianova. Anagrafe e Tributi. Sportelli comunali più veloci con il digitale. E a Rosseto degli Abruzzi. Pavone. La palestra di Colonia poteva essere pronta già da due anni. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani locali. Vediamo le principali testate nazionali e siamo subito sul Corriere della Sera con le fibrillazioni appunto nella maggioranza. Salva stati. Conte apre al rinvio. Parla il Premier. Non è escluso Di Maio e Di Battista. Decidiamo noi. Tensioni col PD. Il presidente del Consiglio. Non ci faremo fregare. I partiti non sono vicino a nessuno. E poi di Spalla. Scuola. Si legge male ma non al nord. Gli studenti italiani sempre peggio. L'Italia precipita nella classifica Ocse. Allarme al sud. Nord sopra la media. Male in scienze. Meglio in matematica. Ancora più nette sono le disparità fra licei, istituti tecnici e professionali. L'emergenza chiama in causa anche le famiglie. E poi ancora in taglio medio la fotonotizia. Dai Dazi alla Nato. Trump spara su Macron. A Londra il presidente USA accusa quello francese. Poi un gelido incontro. E ora la prima pagina di Repubblica del Rio. Di Maio ci ricatta. Il PD non teme le elezioni. Intervista al capogruppo Dem. Scontro con il leader 5 stelle su mess e giustizia. Zingaretti. Così la prescrizione non va. Il premier media. Non è vero che sto con il Partito Democratico. Gualtieri tratta per modificare l'accordo UE. Trump avverte l'Italia. Se fate la web tax metteremo più Dazi. Oggi incontra Conte. Di spalla. Emergenza sul fronte lavoro. All'Unicredit 8.000 esuberi. Sono 160 le crisi aziendali. E all'Inps scoppia l'ingorgo sulle pensioni. Stanchi di aspettare. Poi in taglio medio la fotonotizia. Senza suolo non c'è vita. Greta ha attraversato l'oceano per la conferenza sul clima. Non sottovalutate i bambini arrabbiati. Vediamo la prima pagina del messaggero. Con le parole di Matteo Renzi. Pronti a votare con Forza Italia. Il leader IV. Senza intese sulla giustizia. Ok. Alla legge costa. Costa e Idem. Sognano le urne. Prescrizione. Strapo. Trapidie. Cinque stelle. Salva stati. Lo stop di Di Maio e Di Battista. Conte apre al rinvio. Poi ancora scendiamo. In taglio medio. Decreto fiscale. RC Auto Famiglia. Sconti da rivedere dopo l'allarme delle compagnie. Il flop di Tombini e Spazzini. Raggi. Lascia Roma senza acqua. Pulite. 2.000 caditoie su 70.000 rifiuti galleggiano in strada. La foto notizia. Trump scontro con Macron e avvisa l'Italia sulla web tax. Vertice all'Ondra. Impeachment. Rapporto shock. Andiamo a vedere, anzi sempre sul messaggero, c'è questo richiamo proprio sulla vicenda Rigopiano. Soccorsi a Rigopiano. Accuse archiviate anche per i politici. Vediamo la prima pagina del tempo. Questa l'apertura salva stati. No, salta banche. Una bomba sulle nostre teste. Il mess che Bruxelles vuole imporci nasconde un rischio mortale per gli istituti italiani. Gli investimenti in titoli di Stato diventano crediti per ricapitalizzare. Servono 16 miliardi. Il tempo di Oscio a centro pagina. La regina ha deciso trono a Carlo, però deve lasciare Camilla. Un attimo. Ho quasi finito, ovviamente in espressione romanesca, nel tempo di Oscio. Andiamo ora sulla prima pagina della stampa. Voglia di Made in Italy. Il ritorno delle aziende. Ma Unicredit scuote il mercato. 8.000 esuberi. La rabbia dei sindacati. Il basso costo del lavoro non basta più. In cinque anni ben 120 imprese sulla via di casa. E poi ancora, proprio sulla vicenda Rigopiano. Rigopiano, niente processi ai politici. Lì a tira dei parenti. Non è giustizia. Nella tragedia del resort travolto dalla valanga morirono 29 persone. La foto notizia a centro pagina. Trump-Macron e duello sulla web tax al summit della Nato. Andiamo avanti sulla prima pagina di Libero. Ecco l'apertura. Salvini. Votiamo e amen. Non se ne può più di questo pollaio. PD stanco. Grillini disperati. Renziani esausti. Premier smentito in tv sulle sue consulenze. Matteo, mi sembra che la maggioranza abbia mollato Giuseppe. Gli italiani sono esausti. Sondaggio. I partiti di governo perdono le sardine. Portano consensi alla Lega. E poi, dal punto di vista di Pietro Senaldi, la sfida degli scaricati. Conte Di Maio. Vediamo chi vincerà. Ancora più popolare. La Meloni ha sempre ragione. La foto notizia con l'ex ministro Tremonti, che dice che il salva stati è un cappio, l'ultimo anello di una catena di errori e orrori. La prima pagina del manifesto con questa apertura, l'alieno atlantico. Trump al vertice Nato annuncia darsi al 100% alla Francia se metterà una digital tax alle multinazionali USA del web e minaccia l'Italia. Macron, pronti a dare risposta UE, attacca la Turchia, che ha favorito l'Isis. Erdogan ricatta stop a difesa di Polonia e paesi baltici se non c'è la condanna dei curdi della YPG come terroristi. Si chiama Alleanza Atlantica, dice in maniera ironica appunto il manifesto. E poi in taglio medio, editoria, la Repubblica degli Agnelli. Il gruppo Gedi passa alla Exor. L'accordo con CIR vale 102,4 milioni. I paletti della redazione. Andiamo ora con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Giglio tragico, le nuove carte dell'inchiesta open, altre marchette e dieci operazioni sospette per i PM. Oltre al sistema Bianchi c'è anche un sistema Carrai. Sono decine le segnalazioni fatte da Banca Italia ai magistrati. Gli italiani bocciano Renzi su fondazioni e trasparenza fondi nel sondaggio del Fatto. Poi in punita processuale blocca prescrizione Alt-PD alla legge di Forza Italia eppure alla Buona Fede. In taglio alto sotto la testata parla Conte. Sul messo otterremo un rinvio, il Premier al vertice della Nato. E poi l'idea Alfano Mattarella, vitalizio anticipato, l'ex ministro e il sottosegretario del PD. Andiamo ora a vedere la prima pagina della verità. Giuseppe ha detto una bugia. Ecco la parcella che inchioda Conte. Il Premier ha sempre sostenuto di non avere un soddorizio professionale con l'avvocato che lo ha promosso all'esame per la cattedra universitaria. Però il documento scovato dalle Iene sembra smentirlo. Ci spieghi. E poi ancora la fotonotizia. Il sistema Renzi funziona alla grande anche nella fondazione EU. In taglio medio ancora i giudici vietato respingere i migranti a Roma. Sentenza che farà danni. Gli stranieri devono pure essere risarciti per il mancato sbarco. Andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 ore. Manovra spunta la Robin Tax sui concessionari. Aumenta del 2% l'IRES a carico di tutti i gestori, non solo autostrade. Dopo i chiarimenti dell'ANIA verso esclusione dei rinnovi dalla RCA autofamiliare. Arenata sul nodo coperture la possibile rivisitazione della tassa sui colossi web. La fotonotizia sulla prima pagina del Sole. Strategie controcorrente. Segafredo. Meno capsule e più moca. E poi ancora in taglio medio. Unicredit. 5.500 esuberi in Italia nel piano. 8 miliardi agli azionisti. Niente fusione in vista. Attesi 6 miliardi di dividendi. e 2 di buyback. La prima pagina di avvenire. Disabili e da soli. La denuncia nella loro giornata. 600 mila sono senza una rete di aiuto. Il Papa. Giù le barriere del pregiudizio. Mattarella. Basta. Vittime del lavoro. Il 5% della popolazione soffre di gravi limitazioni. Il governo pronti a un tavolo sulla inclusione. E poi ancora la fotonotizia. L'America che vive male e che vive meno fa pochi figli. Negli Stati Uniti in calo da tempo longevità e nascite. Dipendenze, obesità e suicidi a livelli preoccupanti. E poi ancora in taglio medio. Tanti studenti leggono ma non comprendono preoccupanti i dati dei 15 anni. Male anche in scienze. Tutto questo nel test Ocse a Pisa. Lasciamo i quotidiani nazionali e possiamo tornare su quelli locali. Andiamo su pagina 2 del centro. Mal tempo. Primi aiuti per 1,6 milioni. Lo stanziamento del governo riconosce l'emergenza ma è insufficiente. Febbo, chiesti 50 milioni. Ne servono almeno 120. E poi ancora in taglio medio. Autostrade A24 e A25. Strada dei Parchi. Presenta un piano neve straordinario. In taglio basso. Caruso. Un braccialetto per gli escursionisti. Tragedia in montagna. Il presidente della provincia dell'Aquila. Rilevatori satellitari per i soccorsi. E poi ancora siamo alla vicenda Rigopiano. Rigopiano il giudice archivia. I politici escono dalla vicenda. D'Alfonso e gli ex governatori di centrodestra e centrosinistra. Ex assessori e funzionari. E poi ancora la reazione delle famiglie delle vittime. Gli avvocati non siamo stupiti. La ricerca della verità continua. D'Angelo annuncia ricorso. E poi ancora resta fuori anche il capitolo sulla prefettura. La sala operativa non era in condizioni di decidere. In buona fede Provolo. E l'ex sottosegretario Chiavaroli. Vediamo il servizio realizzato dal Tg6. Ai politici non fu indicata dai responsabili tecnici della regione la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla formazione di una carta valanga estesa anche all'area di Rigopiano. Questa è una delle motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hotel Rigopiano che costò la vita a 29 persone. Escono definitivamente dall'inchiesta, tra gli altri, gli ex presidenti di Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, l'ex sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli e la funzionaria della protezione civile Tiziana Caputi. Fuori dal processo anche gli assessori che si sono succeduti alla guida della protezione civile, Tommaso Ginobble, Daniela Stati, Mimo Zrour, Gianfranco Giulianti e Mario Mazzocca, quindi l'ex vicepresidente di Regione Abruzzo Enrico Paolini, l'ex direttore generale Cristina Gerardis e Giovanni Savini, direttore del Dipartimento di Protezione Civile per tre mesi nel 2014. Archiviati poi Silvio Liberatore, responsabile della Sala Operativa della Protezione Civile, Antonio Iovino, dirigente del Servizio di Programmazione e di Attività della Protezione, Vittorio Di Biase, direttore del Dipartimento Opere Pubbliche fino al 2015, Vincenzino Lupi, responsabile del 118. E' stata archiviata anche la posizione di Daniela Acquaviva, la funzionaria della Prefettura di Pescara, che avrebbe risposto la madre degli imbecilli e sempre incinta al primo allarme lanciato dal ristoratore Quintino Marcella, anche se resta imputata nel procedimento bis per depistaggio. Il GIP quindi ha ritenuto valida la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Pescara, ritenendo insufficienti le motivazioni di opposizione proposte da alcuni legali dei familiari delle vittime. A tal proposito, sulla posizione dell'ex governatore D'Alfonso e dell'ex sottosegretario Mazzocca, il GIP scrive che, anche ipotizzando che gli indagati avessero deciso, dal primo giorno di attività dirigenziale presso la regione Abruzzo, di procedere alla formazione di una carta che comprendesse l'intero territorio, l'iter amministrativo attuativo non poteva essere completato prima dell'anno 2018, quindi in tempo utile per evitare la tragedia. Immediate sono arrivate le reazioni. Il comitato vittime si dice dispiaciuto per la decisione del GIP, che viene accettata però con rispetto per gli appartenenti al comitato, sia coloro che hanno fatto opposizione, sia a chi si è astenuto. La sentenza non è giudicata come una sconfitta, perché, si spiega, nelle motivazioni ci sono ottimi spunti giurisprudenziali per ritenere le proprie idee sui fatti fondate. Pieno di amarezza, invece, il commento di Alessio Feniello, papà di Stefano, che su Facebook ha scritto di cominciare a pensare che alla fine la colpa sarà di chi stava in quell'hotel e di chi lavorava a Rigopiano o di chi c'è andato in vacanza. Questa archiviazione, conclude Feniello, è un colpo che fa molto male. Pagina Abruzzo, sempre sul centro, riordino soprintendenze, le sedi all'Aquila e Chieti. Il regolamento del ministro Franceschini conferma la sede nel capoluogo, soddisfazione della politica, ma gli ordini professionali sollevano dei dubbi. Poi ancora la rana verso il Corecom Abruzzo, intesa nel centro-destra per affidare la presidenza al direttore di Assovasto, appunto Giuseppe Larana, indicato in quota Lega. E poi ancora, in taglio basso, rifiuti, cresce al 60%, la raccolta differenziata sono 180 i comuni che hanno raggiunto l'obiettivo del 65%, Maglia Nera e Pescara con il 30-40%. Andiamo avanti, un pescarese d'adozione nella battaglia sul fine vita, Vittorio Manes, docente di diritto penale a Bologna, l'avvocato che ha difeso Cappato nella vicenda di Jay Fabo e su prescrizione e piccoli tribunali dice, puntini puntini, e chiaramente c'è questa lunga intervista di Antonio De Frenza sul centro, con Pescara il legame forte, conservo ricordi bellissimi degli anni del liceo scientifico Da Vinci. Andiamo ora sulle pagine di Pescara con la vicenda dello sfortunato Roberto Straccia. Straccia, non è stato un omicidio, quel pentito è inattendibile. Lo studente di Moresco che viveva a Pescara morì per annegamento. Il giudice chiude il caso. Chi parlò di scambio di persone affetto dai disturbi psichiatrici, la malavita calabrese non c'entra. Il giudice ha accolto la richiesta della procura di non procedere con nuove indagini. Anche la madre del collaboratore di giustizia lo ha smentito, negando di avere mai ricevuto confidenze dal figlio sulla morte violenta dello studente. Andiamo avanti, si parla di sanità con il piano dell'astro in ospedale a misura di disabili, nuovi scivoli e parcheggi riservati. Svelato il progetto voluto dall'azienda sanitaria insieme all'associazione carrozzine determinate, previsti degli interventi anche per rendere più facilmente raggiungibile il nuovo pronto soccorso. E poi ancora i lampioni bloccano le carrozzine in centro. Il PD chiede interventi in via Genova e via Catania e un sopralluogo delle commissioni comunali in città. Emergenza mobbing e stalking, l'inferno è al lavoro, donne denunciate, chi vi perseguita. Allarme della Will al centro di ascolto, 70-80 segnalazioni all'anno, ma spesso si fa spazio il timore di andare avanti. E poi ancora sala scommesse abusiva, sequestrata dalla finanza, sigilli ai locali di Via Firenze, dove si puntava su eventi sportivi e reali e virtuali, denunciato un 31enne che operava per conto di un bookmaker austriaco. E poi ancora, sempre a Pescara, telefonini e digitale, anziani a lezione per restare al passo. 30 pensionati dei centri sociali al corso per gli over 65, nozioni importanti per mantenere il contatto con gli altri. La pagina di Montesilvano con questo sondaggio a Villa Verrocchio. Vogliamo più sicurezza, le priorità dei residenti presentati, i risultati del questionario proposto dagli studenti dell'università. Il 70% degli abitanti del quartiere chiede più presenza delle forze dell'ordine. Poi ci sono le parole del sindaco Ottavio De Martinis per la riqualificazione. Puntiamo al rilancio di due strutture come Stelco Lamaris e Villa Delfico da destinare a didattica e cultura. E poi ancora in taglio basso, ho visto i volti coperti, ho capito e ho accelerato. La vicenda è quella della rapina in via Vestina di lunedì scorso, l'intervista alla guardia giurata. Andiamo avanti, Città Sant'Angelo in lutto. Oggi l'ultimo saluto all'escursionista morto sul Gran Sasso. Il paese commemora Matteo Martellini con una cerimonia fino alle 16 nella casa funeraria De Bonis. In via d'annunzio, cordoglio da tutto il mondo della Pallamano per la scomparsa dell'ex portiere della squadra angolana. Messaggi dal presidente della federazione e dalle società abruzzesi. E poi ancora siamo a Francavilla. Commercio venerdì nero per vendite e presenze. Bilancio negativo degli esercenti della zona sirena e di Piazza Sant'Alfonso. La colpa, mancano eventi che richiamino gente. Speriamo nel cartellone, dicono i commercianti. Dunque flop della giornata di sconti. In Val Pescara, residenza per Ranziani. Tocco chiede più risorse. Incontro con l'assessore regionale alla sanità in vista della ripartizione dei fondi. Beria ha sollecitato una proposta di potenziamento ai sanitari della struttura ASL. Siamo ora alle pagine di Chieti, ma siamo ancora più precisamente a Lanciano. Il funerale, l'addio della città a Brasile. Ora scali le vette del cielo. Chiesa gremita per l'ultimo saluto al dermatologo morto in montagna. Il fratello Giuseppe, eri affettuoso e sorridente. Don Gregorio aiutava i malati. E poi ancora Paone. Il marito si è difeso durante la lite. Delitto di Torino di Sangro. L'avvocato di Giannichi punta a smontare l'accusa di omicidio volontario. E poi ancora siamo a Chieti. Bus per Megalò. È polemica. La maggioranza si spacca. Oggi il Consiglio Comunale sulle nuove corse. Otto consiglieri pronti a non votare. Insorge anche Confcommercio. Non è così che si aiutano i piccoli negozianti. Di Spalla, Chieti, tiate servizi, riscossioni e precarie. Will, fuori i nomi dei politici che non pagano le tasse. Le pagine di Teramo con la vicenda dei furbetti del sisma. C'è appunto un nuovo caso. Truffa dei contributi. Due indagati e sequestri per 150 mila euro. Sotto accusa un ex dirigente dell'ASD Notalesco Calcio. È il titolare di un albergo di Roseto. Utilizzando i giocatori avrebbero approfittato delle norme sulla sistemazione per gli sfollati. E poi ancora in taglio basso. Treni in ritardo per un guasto. Si rompe uno scambio tra Teramo e Giulianova. Ore di disagi per i pendolari. E poi ancora ASP2, l'azienda per i servizi alla persona. ASP2 e tre sindaci chiedono la riconferma di Prosperi. I primi cittadini di Atri, Pineto e Giulianova, hanno scritto una nota alla regione. Ferretti, il primo cittadino di Atri, si è dimostrato, dice, un valido attuatore di modelli di integrazione. Andiamo avanti. Siamo sulle pagine dell'Aquila. Prima di andare in pubblicità, Bancomat salta in aria con esplosivo. Notte di paura sassa con una banda in azione. Colpo a vuoto all'ufficio postale. L'arrivo dei carabinieri mette in fuga i malviventi. Brusco risveglio per i residenti. C'è il racconto dei testimoni. Qualcuno in questa circostanza si poteva far male. Come hanno fatto a pensare che nessuno si sarebbe accorto di nulla? E poi ancora a 24 esplode bombola di GPL. Operai illesi, incidente in uno dei cantieri tra Assergi e l'Aquila Est. Tratto chiuso per la bonifica dei vigili del fuoco. E chiudiamo con quest'ultima pagina. Carabiniere morto, indagini in alta quota. Oggi sopra luogo sul Monte Amaro. Per ricostruire la dinamica si cerca il telefonino di Cicone. Attestati di cordoglio all'arma. Il racconto dell'amico. Dovevo andare con lui ma non ha voluto che lo seguissi perché non ero attrezzato. Mi ha detto che il percorso era troppo pericoloso. Allora ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6. Diamo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo per vedere altri servizi e per sfogliare le pagine del messaggero della città e delle testate sportive. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, subito sul messaggero con la tragedia di Rigopiano. Rigopiano il giudice, nessuna colpa degli ex governatori. I tecnici della regione non sollecitarono la predisposizione di un piano valanghe per Ottaviano del Turco. Gianichiodi e Luciano D'Alfonso scatta l'archiviazione. Non luogo a procedere nei confronti di 22 persone, restano in piedi gli altri filoni. Lo sfogo di Alessio Feniello sono solo io a pagare per aver portato i fiori dove è morto mio figlio. Poi ancora in taglio basso il comitato delle vittime. Un dispiacere ma la nostra battaglia giudiziaria continua. Ma Reboa, uno dei legali, il fascicolo in parte potrebbe riaprirsi nuovi elementi da inchieste difensive di giornali. Dagli ex presidenti nessun commento, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Andiamo avanti con le pagine di Pescara. Rampe e parcheggi per un ospedale a misura di disabile. La ASL di Pescara annuncia gli interventi per abbattere gli ostacoli oggi insormontabili ai portatori di handicap. Il manager Caponetti. Due commissioni per l'invalidità sono state trasferite ai più accessibili poliambulatori. E poi ancora la soddisfazione di ANMIC, carrozzine determinate. L'impegno del comune. E poi biciclette e carrozzine elettriche recuperate per le visite in Pineta. Gli assessori di Santiglia e Dinizio erano abbandonati all'Aurum. All'inizio il servizio sarà a pagamento. Ma torniamo appunto sugli interventi che saranno fatti appunto dalla ASL per eliminare le barriere architettoniche. Vediamo. C'è stata questa sollecitazione da parte delle associazioni ma anche da parte del comune con l'assessore. Quindi abbiamo fatto una serie di interventi che alla fine non sono particolarmente costosi ma sono dei piccoli accorgimenti che per chi ha disabilità possono però essere rilevanti. Abbiamo fatto una serie di miglioramento di scivoli, apertura di porte scorrevoli, dislivelli superabili in modo migliore. Insomma tutta una serie di piccoli, ripeto, accorgimenti che possono migliorare decisamente la vita, la mobilità di persone che hanno delle difficoltà. Accanto a questo poi abbiamo pure accolto la richiesta di spostare alcune delle commissioni invadi in un ambiente più decoroso che è il nostro poliambulatorio di modo che non si verifichino più quelle condizioni di iperaffollamento che avevamo nel vecchio palazzo della medicina legale. Il nuovo pronto soccorso comporta un investimento per lavori di 1 milione e 4, più somme a disposizione su circa 2 milioni, che saranno ovviamente, queste somme li eviteranno per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari, ma diciamo che sui 2 milioni e mezzo, 2 milioni e sei, realizzeremo un pronto soccorso con una superficie quasi doppia dell'attuale e con caratteristiche nettamente migliori rispetto al precedente pronto soccorso e all'attuale pronto soccorso che presenta ormai problemi datati sia di accessibilità, di fruibilità, spazi insufficienti, quindi veramente un pronto soccorso che potrà caratterizzare l'ospedale di Pescara con una superficie quasi doppia a quello precedente, come un ospedale veramente accessibile a tutti e con una risposta immediata. Sempre sul messaggero, sì alle cure per il bimbo autistico, la mamma vince la battaglia, sentenza rispettata dopo la protesta, il piccolo può fare le terapie a vasto senza più doversi spostare a Pescara. E poi ancora più differenziata, niente inceneritori, i dati dell'Abruzzo, la raccolta a quota 60%, il passo giusto per raggiungere i risultati fissati dall'Europa, avanti con l'economia circolare, l'assessore Campitelli, tutte le città dovranno poter centrare gli obiettivi nel 2025. Intanto la regione annuncia la partecipazione a un evento della conferenza di Madrid sul clima e ci sono 32 comuni che non hanno mai avviato il porta a porta, su questo occorre lavorare molto. Poi in taglio medio la tragedia sul Gran Sasso, oggi l'addio a Martellini, nessuna messa, la salma esposta nella casa funeraria a Città Sant'Angelo, il sindaco Perazzetti, gli volevamo bene. E poi ancora campione del mondo di memoria, Andrea Muzzi, 20 anni, vive a Roma ma ha origini pescaresi, il bisnonno è stato sindaco, il nonno Giovanni, ex radiologo in Cina, contro 150 concorrenti, centrati due record mondiali, è incredibile, gli avversari erano molto forti, specie i mongoli, il giovane è iscritto a medicina, sta preparando un corso online per insegnare a ricordare. Complimenti ad Andrea Muzzi. E poi ancora, siamo sulle pagine dell'Aquila, sul messaggero, ragazzina abusata per anni, un 54enne finisce agli arresti, la vittima, oggi maggiorenne, avrebbe trovato il coraggio di raccontare tutto a familiari e carabinieri, elargiti regali in cambio di prestazioni sessuali, l'uomo avrebbe anche minacciato di diffondere il video. Secondo la difesa, si è trattato di rapporti sempre consenzienti, ma vanno avanti le indagini. E poi ancora, con la cronaca, salto al bancomat, con l'esplosivo nel mirino, l'ATM di un ufficio postale, ma i ladri sono dovuti fuggire, senza denaro. Avanti ancora, città accessibile, il piano entra nel vivo, passa alla fase operativa, l'eliminazione delle barriere, la costruzione di un ambiente che tuteli chi è svantaggiato. Il sindaco Biondi dice, è una svolta storica, un atto vero e proprio di programmazione degli interventi su aree e opere pubbliche. Qui siamo a Castel di Sangro, autopsia virtuale, sul carabiniere è morto, l'esame attraverso una TAC, confermerebbe che il maresciallo è morto per i politraumi dovuti alla caduta, dopo essere scivolato. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le tracce del percorso effettuato dalla vittima, grazie soprattutto al GPS. Andiamo avanti, Siamo sulle pagine di Chieti, Maxi Garage, senza antincendio, il gestore finisce sotto processo, l'accusa è non aver conseguito il certificato di prevenzione e di non aver inoltrato la scia, ma la finanza scopre anche lavoratori in nero. All'orizzonte, vertenze consistenti, la struttura da 60 posti è stata dissequestrata, ma è chiusa da mesi. Di spalla, menze e progetti plastic free, la lotta agli sprechi di cibo, soddisfatto l'assessore di Biase, girerà di persona negli istituti di Chieti. In taglio basso, Amami teatro, Marrucino aperto giorno e notte, dal 17 al 22 dicembre, la Kermessi, in collaborazione con soprintendenza sulle documentazioni storiche. proseguiamo, sempre sulle pagine di Chieti, ma qui siamo in provincia, Giampiero, un eroe della montagna, chiesa gremita per i funerali del medico escursionista, morto insieme a un amico per un incidente sulla maiella, la moglie, vice questore, i quattro figli circondati dall'affetto, della famiglia, degli amici della polizia, con picchetto d'onore. sulla bar la foto e una bandiera, il saluto commosso di chi ha condiviso con lui giorni gioiosi ad alta quota. Pagine di Teramo, sempre sul messaggero, la donna sfuggita allo stupro, aveva denunciato uno stalker, sequestrata e legata poche ore prima dell'interrogatorio per la persecuzione, indagini sul telefono rimasto nelle sue mani e con il quale ha dato l'allarme ai carabinieri. Due vicende giudiziarie si intrecciano nel caso della 38enne che ha evitato gli abusi sessuali grazie allo squillo del cellulare. E poi ancora a Giulia Nova in questa vicenda che tocca appunto in prima persona il sindaco Ivan Costantini, il tumore fa paura ma non mi arrendo. Il sindaco Costantini combatte da mesi un melanoma, mi è stato diagnosticato prima della campagna elettorale, il primo cittadino racconta il suo dramma, le cure mi hanno provocato una polmonite fate prevenzione. Lo zio Ronald morto dello stesso male lo sfogo durante la presentazione di una serata di beneficenza. Poi ancora terremoto scoperta la truffa dei calciatori ospitati in hotel sequestrati 150 mila euro la società direttantistica non esiste più due indagati verso il processo. Lasciamo il messaggero dove torneremo ovviamente per le pagine di sport andiamo sulla città e siamo a pagina 5 dove si parla di raccolta rifiuti la differenziata cresce ma non troppo in Abruzzo la percentuale media nel 2018 sfiora il 60% più 3,68 in un anno ma si può ancora migliorare. Pannolini per lo smaltimento appunto dei pannolini la regione sta lavorando alla realizzazione di un impianto all'avanguardia di riciclaggio la nota negativa è che in Abruzzo ci sono ancora 32 comuni che non fanno la raccolta differenziata dei rifiuti urbani vediamo il servizio del Tg6 è un dato positivo significa che siamo sulla strada giusta c'è una crescita costante costante diciamo della raccolta differenziata però dobbiamo migliorare significa che da qui in avanti dobbiamo incentivare ancora di più i nostri cittadini i comuni bisogna incrementare il porta a porta abbiamo 32 comuni nella nostra regione che ancora applicano la raccolta differenziata quindi sarà compito della regione far sì che anche quei comuni che oggi non sono comuni ricicloni che si possono adeguare a quello che è il principio delle buone pratiche ambientali di tutta la raccolta differenziata il 43% quindi circa 116 kg per abitante per avere un'idea è destinata diciamo la frazione organica quindi umido e verde poi al secondo posto abbiamo carta e cartone quindi circa il 18% circa 50 kg per ogni abitante per ogni anno noi da qui in avanti incontreremo incontrerò diciamo anche i rappresentanti di queste filiere quindi tutti coloro che rappresentano diciamo questa frazione merceologica per migliorare l'andamento della nostra regione è chiaro che l'obiettivo è quello di aumentare ancora di più la raccolta differenziata perché aumentare la raccolta differenziata significa far fare un salto di qualità alla nostra regione economia circolare non dialoga con l'inceneritore sono due cose completamente diverse parlare di economia circolare significa dimenticarsi tutto il principio dell'useggetta significa dimenticare tutta la politica che è stata fatta che ha distrutto anche in modo irreversibile il nostro pianeta e quindi significa passare ad un altro sistema ad un'altra politica che prevede il riuso il riciclaggio che significa il rifiuto non più come un problema ma effettivamente come una risorsa per tutti i cittadini e per il nostro pianeta noi stiamo lavorando in questa direzione ma questo non significa non significa rifiuti zero significa che noi dobbiamo lavorare attraverso impianti che favoriscono da una parte lo sviluppo che da un'altra parte favorisce il riutilizzo del rifiuto e dall'altra parte produce magari anche opportunità lavorative e parlo ad esempio degli impianti di valorizzazione dei rifiuti che potrebbe essere un impianto della frazione organica dove dalla frazione organica riusciamo a ottenere compost per l'agricoltura e produrre energia elettrica o biometano questo è economia circolare questa è la direzione che noi vogliamo far prendere alla nostra regione proseguiamo sempre sulla città Furbetti del Cass truffa della squadra di calcio terremotata l'ex patron di una società calcistica nei guai insieme ad un albergatore scatta il sequestro di 150 mila euro due si sarebbero messi d'accordo facendo risultare che una decina di giocatori risiedevano nell'hotel danneggiato andiamo avanti riapre la sala espositiva di via nicola palma novità dall'assessorato alla cultura l'arca ride luca contributi alle associazioni e teatro romano anche in questo caso possiamo vedere il servizio del tg6 teramo città di cultura l'amministrazione comunale punta il rilancio culturale della città attraverso il recupero di spazi eventi di alto livello e ripristino di un budget annuale da devolvere alle associazioni culturali cittadine tornano gli incontri in pinacoteca a giorni riapriranno la sala espositiva di via nicola palma e i locali dell'arca mentre stanno per partire i lavori di ristrutturazione del museo archeologico oggi si apre inizia una nuova fase che abbiamo definito della riapertura culturale riapertura sia in senso fisico con l'annuncio appunto della riassegnazione alla città dello spazio espositivo di via nicola palma dopo tanti anni con un grande sforzo che è stato fatto da questa amministrazione ma una riapertura soprattutto nel dialogo con tutti gli attori culturali e sociali della nostra città questo percorso di rivitalizzazione culturale di Teramo troverà il suo apice a fine anno quando il consiglio comunale voterà una delibera storica per la città l'inizio lavori per il recupero del teatro romano questa è la grande sfida ovviamente insieme al recupero di quelli che sono gli spazi straordinari le bellezze straordinarie che appartengono al patrimonio storico culturale archeologico della nostra città una su tutte il teatro romano su cui stiamo cercando di arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione del progetto definitivo è un momento storico per la nostra per la nostra città attendiamo insomma speriamo che tutto vada bene comunque siamo ormai in fase di definizione del progetto definitivo poi possa aprire le porte al recupero di un'area che forse attraverso una rifunzionalizzazione vera reale che può essere insomma che deve essere deve essere il simbolo il simbolo forte del rilancio complessivo della nostra città sempre sulla città Prati di Tivo la stagione slitta a Natale per ora manca la neve ma ci sono numerosi dettagli da mettere a posto prima di avviare gli impianti di nuovo a Teramo comune struzzo sulle strisce blu il Movimento 5 Stelle svela l'esistenza di una proposta di project financing mai presa in considerazione e poi ancora video mapping idee di futuro proiettate sulla facciata del Duomo l'esperimento City Future mapping sulla facciata del Duomo di Teramo proiettate le idee di centinaia di studenti sul tema della città del futuro ecco qui le immagini le foto appunto della proiezione sulla facciata del Duomo di Teramo andiamo ora avanti la proroga alla regione è stata chiesta la provincia risponde alla diffida dei sindaci e chi ci ha preceduto non ha rispettato le scadenze la vicenda è legata a quella del ponte sul Vomano le parole del presidente della provincia di Bonaventura il presidente ha invitato i sindaci a convocare i consigli porterò le carte per fare chiarezza su quanto accaduto andiamo avanti siamo in Val Vibrata Colonnelli attacca sulla ciclabile sul Vibrata l'assessore di Albateria Ticaduro sui ritardi l'opera pubblica è stata gestita con pressa pochismo ci erano state date rassicurazioni che tutto sarebbe stato sistemato ma lo stallo permane avanti ancora siamo a Giulianova attese più brevi negli uffici comunali rivoluzione digitale per gli sportelli demografici e tributari si tratta del primo passo verso la ristrutturazione che interesserà il pieno terra del municipio poi ancora siamo a Roseto la palestra poteva essere pronta due anni fa Pavone attacca sul progetto di Colonia Spiaggia ha perso tempo per poi realizzarla dove era stato già deciso dopo quattro anni di mani tentativi di cambiamento avremo solamente una palestra più piccola qui siamo sempre in provincia i sindaci si schierano al fianco di Prosperi i primi cittadini di Atri Pineto e Giulianova scrivono alla regione chiedendo la riconferma alla guida dell'ASP i motivi autentico interprete della buona amministrazione valido attuatore di modelli di integrazione e apriamo ora la parentesi finale legata allo sport sulla città Teramo impotente davanti alla capolista Costa Ferreira alla ripresa non riuscivamo a far male alla regina di stacco troppo ampio le parole del centrocampista portoghese abbiamo raccolto poco e non possiamo essere soddisfatti la vivonese è la squadra peggiore che ci potesse capitare in questo momento Cristini a rischio per la trasferta calabrese poi in taglio basso World Tour Star Alba Adriatica si ricandida per l'estate 2020 il 15 di dicembre ci sarà l'assegnazione per la tappa della manifestazione di beach volley che anticiperà le Olimpiade di Tokyo lasciamo la città andiamo sulle testate nazionali sportive subito sul Corriere dello Sport che apre con una intervista all'ex amministratore delegato del Milan Adriano Gagliani ora appunto al Monza le scommesse di Adriano il Diavolo il Super Monza e le visioni di Berlusconi Allegri era giusto per noi giocare a San Sino non è per tutti nessuno sa uscire dalle crisi come Ancelotti in Serie A nel 2021 il Cavaliere pensa già al derby con i rossoneri il nostro cammino di Santiago e poi una serie di richiami a Napoli ADL via al casting per la panchina verso Inter Roma sulla via di Geco rispunta Conte verso Lazio Juve l'appello di Ciro con il tifo si può andiamo sulla prima della gazzetta dello Sport Juve attacco Real guerre stellari per Ronaldo Paratici conferma l'accusa di Chiellini sul pallone d'oro Cristiano lo meritava anche quest'anno certe società hanno un peso hanno un grande peso sulle decisioni irritazione da Madrid sotto la testata Ibra Milan arrivo torno in Italia per vincere di nuovo andrò in un club pieno di storia Conte 100% dal primato ai tifosi così ha riportato tutta l'Inter al top Lega di Serie A e bufera per l'audio rubato all'amministratore delegato De Siervo divulgate le parole dette in consiglio microfoni spenti per i bu razzisti la prima di tutto sport Paratici esclusivo Ronaldo ora parlo io Cristiano resterà alla Juve su questo non ci sono dubbi ha passato un momento difficile per il problema al ginocchio però sta tornando al top la sua presenza ha migliorato tutti nel club e poi ancora sotto la testata allarme Belotti il Toro rischia di perderlo fino al 2020 intervista a GQ Ibrahimović parla già da milanista Inter Roma c'è anche Florenzi nel menu di Marotta torniamo sui quotidiani locali andiamo sul centro ecco qui un riferimento a Luca Palmiero il centrocampista del Pescara che però in questo periodo è infortunato il Pescara con Palmiero ha un ritmo da Serie A il centrocampista è fondamentale media di 2,5 punti a partita con lui in campo sul mercato si cerca anche un vice dell'ex Cosentino Ciocev operato di nuovo poi ancora in taglio basso Lupo e Ortoli pescaresi nel cuore del Venezia il DS Lupo fidatevi sarà una sfida spettacolare l'ex attaccante nel 2010 2011 mi beffo Sansovini poi la Serie C anche in questo caso riportate le parole di Costa Ferreira Teramo così non sei da playoff il centrocampista portoghese bacchetta la squadra non potremo puntare alle prime posizioni ma di questo passo saremo fuori anche dagli spareggi commettiamo sempre gli stessi errori così non va bene bisogna lavorare tocca al mister e a noi esperti dare una mano a chi non è ancora pronto e poi per la Serie D con la riapertura del mercato Avezzano arriva all'esterno Agate Notaresco spunta l'idea Stivaletta Raffaello firma con il rosso-blu a campo ora si allena colchietti Giulianova sfuma De Fabritis poi ancora per la Serie C Silver di Basket Pescara Amatori e più di un derby dalla promozione in A2 alla mancata iscrizione Club Spaccato è ripartito con due squadre dopo una estate di Beleni domenica appunto ci sarà la stracittadina andiamo a chiudere con il messaggero Abruzzo le due pagine di Sport ecco qui Pescara Venezia il derby di Lupo il DS dei Veneti stavolta avversario all'Adriatico con lui c'è anche Ortoli che emozione tornare nello stadio in cui tifavo per il delfino di Rosati e Cadet poi ancora la scelta di Zauri fa parte del DNA di questo club che valorizza il settore giovanile e poi sul fronte mercato anche la Fiorentina pensa a Borrelli per il futuro in taglio basso c'è il basket di A2 Roseto ecco perché ho scelto Bobby Jones coach d'Arcangeli aggiunge su Latin ho sbagliato pensavo fosse più pronto nessun sovraffollamento nel ruolo di Ala poi ancora tornando al calcio di serie C Teramo attenzione così rischi i playoff l'analisi del centrocampista Costa Ferreira superficialità per il gruppo che siamo i risultati non sono davvero all'altezza la vivonese non sarà una avversaria facile e poi sempre il calcio in questo caso la promozione Catalli l'Aquila qui mi sento a casa presi passa cantando il difensore Matteo D'Amico Catalli che proprio domenica scorsa ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Chieti eccolo qui e poi Rodia non potevo rifiutare il Lanciano Rodia ne ho acquisto appunto del Lanciano nel campionato di eccellenza e poi ancora si apre l'asta per Lalli notaresco prova Raffaello noi ci fermiamo qui con la edizione odierna di mattino 6 che chiaramente tornerà domani alle ore 8 prima di congedarvi vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti informativi con la nostra emittente le tre edizioni principali del TG6 quelle delle ore 14 19 e 23 grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata Grazie a tutti